Perchè io mi devo andare a portare in mezzo? Non so, non so, non so. Ma sono trovata in questo punto di tempo Perché il merda è quello che non è il tuo servizio di mezzo E il mio sentimento è buono E non c'è neanche essere campioni Per il resto di pazzi che ho Ma se lo trovo, non lo trovo E non ho la data Perché è in estato un pilante E adesso ci sono un'esplosione E non sono un pezzo di merda Socialmente qui è l'astruzione, la piscina, la benissima. Guarda, guarda, guardava musica, la braveta, la sottola, la poluzione, la sottola. La sottorenza che mi ha detto, non contesti, non ci dico perché io ne ne sto parlando. Guardo e dico che coraggio, ha dato buono la campionessa, l'idea. E lui, non so che c'è il giudice dal pubblico. Sì, ma non è più passato. La solida qua. Comunque è previsto anche, quando insegna lei giudice, è previsto che il nado, il segato, i cani, chiaramente, i fulvi col colore Wonder Bridge. E infatti lo fanno i fulvi, ma non lo fa il bianco e il bianco, ma le neve, le bianco, 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 le bianco. Il bianco è importante, non lo fa il bianco, ma a volte lo fa il bianco e le bianco, le bianco, le bianco, le bianco, le bianco le bianco, le bianco le bianco, le bianco, le bianco, le bianco e gli arricchiano. Sì, sì. Molto di... ma quando prendo? Se ne puoi prendere. O gliela lascio e poi si rassegna questa cedua. Nooo... e se ne puoi prendere. Se ne puoi prendere l'altra, se ne puoi prendere questa... Sì, sì. E' un po' di... Pino, pittinino! La cammina... Adesso, migliorata... La domanda va di tutto il mio canto. Ma ora c'è una cosa diversa da quella qui. Se ne puoi soldare, guarda se tu puoi prendere. E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. Se si senti pregi e si senti pregi. E' un po' di tempo. Non si può essere... E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. Ci senti pregi!